Ciao a tutti ragazzi e bentonali sul canale, come va? Spero che state bene e che stiate trascorrendo una splendida giornata. In questo video voglio concentrarmi sul profilo di un portiere classe 2000 del gremio di Porto Alegre, nella fattispecie Gabrieo Grando, detto anche Gabrieo Chapeco. E perché vi voglio parlare di questo portiere? Perché già da gennaio era stato accostato ad alcuni club italiani, però sembra che ora uno in particolare si sia fatto sotto per il portiere. Però, prima di andare non c'è la questione, mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere tutte le news in tempo reale riguardo i video che vado a pubblicare, in modo che non perdete tempo, basta cliccate e andate direttamente al video. In secondo luogo vi invito a recuperare la live che si è tenuta ieri, l'ora del 21 in poi, sul mio canale, ospita Andrea Di Lella, consulente di mercato e collaboratore di Radio Bianconera. In più, in questi giorni vedete anche un video un po' particolare, estrano dal calcio, argomento tech e di postazione, quantomeno setup mio personale. Ma andiamo appunto al noccio a questione. Chi è questo Gabrieo Grando? Un portiere appunto classe 2000, 192 cm, cresciuto calcisticamente nel clima di Porto Alegre. Pensate, nella sua carriera con la maglia dei Neroazzurri, 33 partite con 38 gol subiti e ben 13 clean sheet, assolutamente niente male. Un portiere appunto dotato di grande fisicità, che nonostante ciò però ha veramente un'agilità fenomenale. Perché comunque, soprattutto nei tiri ravvicinati e nei tiri bassi, si sa molto bene che fondamentalmente nei tiri bassi i portieri alti vanno un po' in difficoltà, lui è veramente un gatto molto attivo sulle gambe, ottima spinta con i dorsali, deve migliorare nelle uscite, sebbene, quantomeno quelle dopo una palla lunga scoperta, però comunque sa far valere la sua felicità in aria, soprattutto nelle uscite alte. Un giocatore che non è a volte bellissimo esteticamente, però molto efficace, infatti molte volte, soprattutto sulle palle basse ravvicinate, diciamo che il suo istinto da portiere da occhi è ancora un po' la fata padrona, vale a dire che comunque tende sempre a uscire stile garella, portiere agni 70-80 se non erro, che era celebre per queste uscite basse quasi da giocatore di hockey. Però è dotato di una grande personalità e sa farsi valere in aria di rigore, soprattutto per quanto riguarda i calci piazzati, è molto comunicativo, è molto deciso quando comunica con la difesa, e secondo me può essere veramente un ottimo portiere, un giocatore che già nel giro della nazionale a brasiliana, dà molta affidabilità e potrebbe essere un investimento molto importante, molto importante a livello tecnico per alcuni club italiani. In gennaio si erano interessati al giocatore Sampdoria e Sassuolo, società comunque che già hanno buoni portieri, perché comunque il Sassuolo ha consigli, la Sampdoria comunque ha Udero e Falcone, soprattutto quest'ultimo è in rampa di lancio, però le offerte sono state soltanto prestito con diritto. Il Sassuolo soprattutto ha ottimi rapporti con il gremio, perché comunque dalla squadra brasiliana hanno già acquistato Juan Tressoldi e Matteo Scherriche, quindi i rapporti che hanno i Neroverdi con il club Carioca sono molto avanzati, ma, detto questo, le offerte non erano state considerate congrue, perché comunque offrire per un portiere così importante titolare di una squadra come il gremio un prestito con diritto è sembrato poco. Sembra però che nelle ultime ore l'Elas Verona si approssima a fare un'offerta di circa 2 milioni di euro. Nonostante il giocatore abbia contatti di scadenza il 31 dicembre 2025, comunque il gremio è interessato a cedere il giocatore, quantomeno per andare a monetizzare. Ergo sicuramente il giocatore lascerà, o meglio quasi sicuramente, lascerà il gremio in estate, secondo me, perché ci potrebbero essere veramente tanti interessamenti dei club europei, soprattutto appunto dalla Serie A, perché non è assolutamente da escludere un suo approdo nel campionato strano. Ora, verrebbe preso Grando per sostituire Montipò? Non lo so, onestamente. Io penso che 1-2 anni, un anno quantomeno possa fare di apprendistato. Magari in prestito in un'altra scuola di Serie A che magari in cerchio di un portiere e che abbia la filosofia di valorizzare un portiere, o quantomeno in prestito a un club molto ambizioso di Serie B, o magari, perché no, alla Sernitana dell'anno prossimo, faccio esempio, qualora poi Sepe dovesse andare a Napoli per fare il secondo Spina, si potrebbe andare a riempire questa famosissima casella e magari qualora al Verona dovesse acquistare Grando, magari andrebbe a cederlo in prestito a Sernitana. Quindi un club ambizioso, sicuramente avrà una squadra molto comedia per la Serie B, magari potrebbe essere un primo approccio con il calcio italiano. Di conto, magari, la Sverona potrà valutare la cessione di Montipò nell'arco di 1-2 stagioni. Quindi, facendo ambientare bene Gabriel Grando, anzi, Gabriel Chapecò, magari, qualora poi Montipò dovesse andare via, ecco che hanno direttamente un portiere pronto, già magari in un discorso di calcio italiano. Lui è destro di piede, brasiliano puro, non ha seconda nazionalità, quindi andrebbe a occupare uno slot d'extracomunitario. Ma sarei veramente tanto curioso di vedere un'Italia, anche perché rappresenta, secondo me, la new generation dei portieri brasiliani. Diciamo un giusto mix tra, faccio un esempio, bisogna fare due nomi, un Taffareo e mi scappa il nome del portiere, del Manchester City, Ederson. Quindi, magari, uno Taffareo, più bravo con i pali, tra i pali, però magari Ederson ha più una dote di impostazione, di uscita. Ecco che Grando potrebbe essere una buona via di mezzo tra i due. Comunque, bravo in uscita, bravo, è un discorso di essere più alto di comandante in difensiva, ma allo stesso tempo deve migliorare, quindi deve migliorare veramente tanto per raggiungere questo, questo appunto, via di mezzo, evitando di, evitare il concetto di in the middle of nowhere, vuol dire, tu stai lì, non sei nei cani e pesce, e via dicendo. Ovviamente, tifosi della Sverona, tifosi della Samp, tifosi del Sassuolo, fatemi sapere se conoscete questo giocatore e se eventualmente se anche lo prendereste, magari se cedereste consigli o Audero o Falcone o Montipò o chi che sia. Ovviamente, vi invito sempre a lasciare un like al video, iscrivervi al canale, di guardare le campioni delle notifiche. Vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video. Ciao ragazzi!